Ciao a tutti, io sono Carlo Orlandi del corso di fotografia online e gratuito di PlayerDuelighting e in questo video rispondiamo alla domanda qual è la differenza tra un obiettivo zoom e un obiettivo a focale fissa e quale scegliere? La differenza principale che c'è tra un obiettivo zoom e un obiettivo a focale fissa sta nel fatto, come suggerisce il nome, che un obiettivo zoom ci permette di cambiare la lunghezza focale girando l'apposita ghiera quindi effettivamente possiamo zoomare da un'immagine più ampia a un'immagine più stretta che ingrandisce un particolare dettaglio con un obiettivo a focale fissa invece abbiamo una singola lunghezza focale e se vogliamo avere una scena più ampia o più stretta su un dettaglio dobbiamo fisicamente noi spostarci avanti e indietro È facile riconoscere un obiettivo zoom da un obiettivo a focale fissa nella nomenclatura perché uno zoom ha sul nome due valori di lunghezza focale in questo caso per esempio abbiamo 18-55 mm questo vuol dire che la lunghezza focale minima, quella più ampia, è di 18 mm e via via che andiamo a zoomare arriviamo a un massimo di 55 mm nel caso di un obiettivo a focale fissa invece abbiamo un singolo valore di lunghezza focale come abbiamo detto che in questo caso è 50 mm a questo punto viene naturale chiedersi perché comprare un obiettivo a focale fissa quando con uno zoom possiamo rimanendo fermi fare tutti questi tipi di fotografie compreso il 50 mm la differenza sta nel fatto che un obiettivo a focale fissa solitamente è più luminoso con una qualità di immagine maggiore rispetto a un obiettivo zoom chiaramente questo si parla di obiettivi che sono su una fascia di prezzo simile nel caso del 50 mm per esempio se andiamo a vedere sempre il nome vediamo che abbiamo 50 mm 1 2.2 ovvero f2 che è il valore di apertura del diaframma minimo nel caso di un obiettivo come il 18 55 mm invece vediamo che questo valore è 1 2.2,8-4 questo vuol dire che l'f minimo l'apertura del diaframma minima che abbiamo su questo obiettivo parte da 2.8 a 18 mm e via via che andiamo a zoomare arriviamo a 55 mm dove il valore minimo di apertura del diaframma è f4 quindi vediamo che stando più o meno sulla stessa lunghezza focale di 50 mm con l'obiettivo a focale fissa abbiamo un'apertura del diaframma di f2.0 che è molto più luminoso rispetto a un obiettivo come questo zoom dove a circa 50 mm abbiamo un f minimo di f4.0 adesso cosa vogliono dire questi numeri prima di tutto se non lo sapete potete andare a vedere l'episodio sull'apertura del diaframma del corso di fotografia ma in breve questo valore più è basso e più indica un'apertura del diaframma ampia e quindi un obiettivo più luminoso e questo si traduce nella possibilità di fare fotografie con meno luce presente nella stanza per esempio e fotografie con uno sfondo maggiormente sfocato che è un effetto che si ricerca solitamente nella ritrattistica o nella fotografia di oggetti perché ci permette di separare l'attenzione del soggetto da tutto il resto dei dettagli nella fotografia e inoltre dobbiamo considerare che gli obiettivi a focale fissa esistono anche in delle varianti specialistiche come per esempio gli obiettivi macro o gli obiettivi basculanti per quanto riguarda la dimensione a parità di lunghezza focale solitamente gli obiettivi a focale fissa sono anche un po più piccoli sempre per il fatto che devono gestire una singola lunghezza focale ma anche gli obiettivi zoom hanno un asso nella manica infatti solitamente anche le quelli di fascia più economica hanno lo stabilizzatore di immagine che ci permette di avere delle fotografie con meno mosso o dei video senza il tremolio delle nostre mani chiaramente quando non utilizziamo il cavalletto abbiamo detto che gli obiettivi zoom hanno questa apertura del diaframma minimo variabile ma questo vale solitamente per quelli di fascia più economica diciamo con prezzi più umani degli obiettivi zoom infatti esistono le varianti con l'apertura del diaframma minima costante che però risultano essere molto più costosi e molto più ingombranti in conclusione quindi se la luminosità dell'obiettivo non è un fattore così importante per le vostre fotografie come non lo è lo sfocato dello sfondo e del primo piano probabilmente un obiettivo zoom è la soluzione più comoda perché vi dà la possibilità di scattare tanti tipi di fotografie diverse senza dover cambiare obiettivo così spesso o senza dovervi spostare invece se ci sono alcune particolari lunghezze focali che sappiamo ci piacciono che ci piace scattare in quelle lunghezze focali e se luminosità qualità di immagine e sfocato sono fattori importanti allora dobbiamo puntare verso un obiettivo a focale fissa c'è da dire inoltre che il fatto di doversi spostare a piedi avanti e indietro per cambiare l'ampiezza della fotografia in realtà è un ottimo esercizio anche a livello di composizione per allenare un po' l'occhio ai diversi punti di vista e se siete all'acquisto della vostra prima macchina fotografica potete stare tranquilli che il 18-55 mm è un ottimo obiettivo per iniziare infatti è un obiettivo reputato tuttofare che va benissimo per fotografie in viaggio e per sperimentare i primi concetti della fotografia se avete un qualche interesse verso la fotografia ritrattistica o la fotografia di oggetti il mio consiglio è sempre di prendere come secondo obiettivo il 50 mm dato che ci permette di approfondire maggiormente il discorso sulla profondità di campo e ci dà la possibilità appunto di avere queste foto con lo sfondo spogato inoltre il 50 mm un po' per tutte le marche è un obiettivo a focale fissa tendenzialmente economico nel caso della Fujifilm è il 50 mm f2.0 ma nel caso delle altre marche solitamente è il 50 mm f1.8 un ringraziamento speciale per questo episodio va alla Fujifilm che ha fornito l'attrezzatura per registrare l'episodio nel particolare ho registrato il video utilizzando la Fujifilm XS10 con il 16-55 mm f2.8 come obiettivo se avete dubbi o suggerimenti potete scrivermi a carlochiocciolaplayer2.com potete seguire player2lighting su twitter o instagram a chiocciolaplayer2 su facebook a facebook.com slash p2lighting e mi raccomando visitate il sito di player2lighting a player2.com e iscrivetevi al forum a player2.com slash forum e se avete proposte per altre domande per questa rubrica mi raccomando potete scriverle anche qui nei commenti di youtube grazie per aver visto questo video e ci vediamo al prossimo